Mi sono manzata qualche bignoline e ho qua della marmellata di mirtillo quella light ho pensato di riempirle perché fa un po' caldino per accendere il forno di fare una torta e allora preferisco fare questo esperimento belle piene, questo è strapino, non toglie neanche in piedi adesso mettiamo ancora un po' di marmellata con uscite questo la riempiamo dopo voglio che notti la vogliamo ancora meno piena vabbè sono tutti ben pieni lo facciamo così dovrò provarlo due minuti fate il dolcetto tocco finale una bella spolverata di zucchero al velo vedete come è semplice fare un dolcetto veloce veloce con le bignoline marmellata di mirtillo il dessert è pronto non avete acceso il forno non crepate dal caldo ho mangiato un ottimo dolcetto relax relax un momento di rilassi bagno turco guardalo qua sembra il re di prussia massaggino, massaggino il pancino la zampina la zampina piedino piedino calmo perchè qui si va bene si va bene il massaggino saluta saluta